Riteniamo che il percorso di sostenibilità debba nascere ovviamente con una grande attenzione del vertice aziendale e questa oggi l'abbiamo dimostrata, credo, però deve venire anche da quello che sentiamo da chi sono i nostri stakeholders. Ci saranno sicuramente iniziative nell'ambito della sostenibilità di impatto ambientale, quindi quella energetica e di emissioni, ci saranno sicuramente delle iniziative sulla nostra attività di investimento, abbiamo ricordato stamani che siamo un grande investitore nel paese e che abbiamo vinto dei premi importanti per farlo già oggi in maniera sostenibile e aspettiamo degli input oggi per farlo ancora meglio, ci saranno sicuramente degli input sul nostro sistema di governance che è uno dei fattori chiave, cioè la sostenibilità se non la porti dentro l'azienda, nelle regole che ti dai, nei parametri che ti dai, poi non funziona.